Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you e il nostro lavoro saràrianismati, il nostro lavoro sarà affermi al mondo, così, adesso vi ringrazio il rapporto di una persona di teca di teca, quindi noi stiamo in un'approvazione e abbiamo seguito il rapporto di una persona in cui si stiamo in un'approvazione, . e ora dovete mettere la decorazione di come e vediamo come va bene e allora ora ci voglio andare a fare con noi oraessi come chiedere la sua vita e quando andiamo a買are la sua vita ma non c'è un giudice, non c'è un giudice, non c'è un giudice che vuole a tutti. Ma è qualcosa che vuole, non c'è un giudice. Non c'è un giudice, che vuole di essere i nostri figli. non ok regolation douche chiamata di regolation chiamata ring di manico cosio i gunda vanille l'agile chiede pure stiamo all'aguarda uno due tre uno che bella come venì bambini grazie amore mio con i bambini stupendo senza maschera guarda buona festa quelli non sono mica i miei anni che meraviglia grazie andrei grazie grazie hai fatto una cosa fantastica e come li avete ridi di questi grazie mi ha commosso grazie di che avete usato il filo della pesca avete usato hai capito il filo della pesca è fantastico com'è la luce stupenda mamma mia capisci quello del profumo non lo sapevo quello dell'esempio mi piace questo allora grazie don zupo che mi fa per me attenta ai balloni si si che così mi sposo entro l'anno andrei si sposa entro l'anno andrei grazie a me piacciono un sacco questi bicchieri belli vero allora il primo brindisi con voi eh grazie cina e auguri tanti auguri si si grazie don zupo amore tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a Marcella tanti auguri a te oh 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 grazie che ci fosse una sorpresa grazie allineati con la toalla grazie buona il tavolo si muove un po' come è? buonissima come è? buono sicuro? buono è buono è fatta proprio bene però passalo anche a Sijel che forse lo vuole non so io questi li mangio con le mani ormai Don Dupio mi ha insegnato così e me li mangio con le mani con le mani alla tibetana poi c'è una spiegazione che sembra che a saperi meglio con le cose che mangio ma le cose quasi non dovrebbe essere però però eh sì però non lo so perché non lo so sta diventando? ciao tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a Marcella tanti auguri a te per Marcella special cake special cake special cake eh questa non l'ho aperta buona buonissima ecco questo è per te Don Dupio? sì dai brindiamo? brindiamo? sì ma non ci abbiamo più da bere tu io ce l'ho no no ce l'ho ce l'ho vai tu vai tu vai tu vai con il CJ vai fantastico 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 buona 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti